Buongiorno! Buongiorno! Ah però, è tua? Sì, e guarda, anche gli ammortizzatori avanti e dietro. Sai che le buche non si sentono? Eh già, le proprietà della molla sono formidabili per attutire gli urti. Una molla come questa, elicoidale e aspire separate, può essere sia compressa che estesa, entro certi limiti naturalmente, e tornare poi alla sua forma iniziale. Vediamo in dettaglio come si comporta una molla in estensione. Abbiamo bisogno di una molla elicoidale e aspire separate, un'asta di sostegno, un'asta graduata con due indici e alcune masse calibrate, cioè corpi di massa nota. Sistemiamo l'indice superiore accanto all'estremità inferiore della molla. Per evitare errori di parallasse, leggeremo d'ora in avanti tutti i valori sempre portando lo sguardo all'altezza dell'indice. Ne segniamo la posizione perché ad essa corrisponde l'allungamento al riposo, cioè 0. La posizione 0 è 57,1 più o meno 0,1 cm. Per aumentare il carico, appenderemo una dopo l'altra le masse calibrate all'estremità libera. Poi analizzeremo i dati per capire se c'è una relazione tra forza applicata e allungamento prodotto. Ho due domande per voi. Che tipo di relazione pensate esista tra la forza peso e l'allungamento della molla? E poi, prima di togliere tutto il carico, sarà possibile prevedere se la molla tornerà alla forma di partenza oppure se sarà irrimediabilmente deformata? Procediamo appendendo la prima massa da 50 grammi. Essendo masse calibrate, consideriamo trascurabili l'incertezza sul loro valore. Quando la molla smette di oscillare, spostiamo il secondo indice all'altezza dell'ultima spira e annotiamo la nuova posizione. 55,1 cm. Aggiungiamo altri 50 grammi e annotiamo la posizione. 53,3 cm. Ora continueremo ad aggiungere 50 grammi alla volta, segnando massa dopo massa la posizione raggiunta. 51,4 cm. 49,5 cm. 47,5 cm. 45,5 cm. La posizione in cui si arresta la molla ogni volta che aggiungiamo un peso, da cosa dipende? Indica un punto di equilibrio tra forze? Vediamo prima come si calcola la forza peso. In un dato luogo, la forza peso che agisce su un corpo di massa M è direttamente proporzionale a M, cioè F con P uguale M per G. La sua unità di misura è il newton, la massa espressa in chilogrammi e la costante di proporzionalità G vale al livello del mare 9,8 newton su chilogrammo. Applicando una massa all'estremità della molla, questa si allunga fino a quando la forza peso è bilanciata dalla forza elastica. Queste due forze hanno uguale direzione, ma verso opposto. Quando la forza peso aumenta, la molla risponde ancora con una forza elastica uguale e contraria. Per ogni massa aggiunta, abbiamo calcolato la forza peso in newton, trasformando la massa in chili e moltiplicandola per la costante di proporzionalità G. Poi abbiamo calcolato l'allungamento ΔL, determinando la differenza, in valore assoluto, tra la lunghezza della molla sotto un certo carico e la lunghezza iniziale della molla scarica. Infine, abbiamo calcolato la costante elastica K, dividendo la forza peso per l'allungamento, e ne abbiamo determinato anche il valore medio con la sua incertezza. I singoli valori di K non si discostano molto l'uno dall'altro. L'incertezza sul valore medio è piccola. La molla ha risposto con lo stesso allungamento ad ogni forza aggiunta, e quindi non ha perso la sua elasticità. Togliendo i pesi, dovrebbe tornare esattamente alla lunghezza iniziale. Carlo? Li tolgo subito. E infatti la molla torna proprio alla posizione iniziale, 57,1 cm. L'allungamento ΔL che subisce una molla è direttamente proporzionale alla forza F applicata. Oltre un certo limite di sollecitazione, l'allungamento non è più proporzionale, e una molla può rimanere deformata permanentemente. La costante di proporzionalità esprime la rigidità o la durezza della molla. A parità di forza applicata, molle con diverso K si allungano di più o di meno. Utilizziamo le molle tutti i giorni. Nelle penne a scatto, negli ammortizzatori di auto, treni, motorini, in alcuni modelli di materassi. Ma anche in un'infinità di altri oggetti, come gli orologi o i dinamometri. E anche sulla tua mountain bike. Posso? Sì, ma vai nel cortile. Ah, in corridoio. Non ti preoccupare, sono nato sulla bicicletta. La bici è salva! Tranquilla! Buono studio.